Buongiorno amici del canale oggi sto facendo un video con Stella stiamo a giugno siamo il 21 giugno e Stella stava saltellando qua e là sul prato no Stella non farlo non farlo no no e si arrotola come tutti i cani a prendere fresco vieni Stella andiamo adesso mi muovo un po perché Stella purtroppo hanno tagliato il prato saltellava prima faceva dei salti e mi piaceva cosa faceva adesso non me le fa più e se non si prende l'attimo con gli animali è una cosa un po' era anche divertente sembrava sembrava un carne circense e la cosa mi piaciucchiava sentite sottofondo cantare i cirlini saltavo a destra a sinistra prima eccola la ha un po di caldo la lingua di fuori saranno già 18 gradi e arriveremo a 28 stanotte ha piovuto non vedo l'ora di fare qualche giro adesso mi allontano eccola qua in corsa la mia stellina che saltella di qua e di là adesso sto camminando quindi ci potrebbe essere un po di vibrazione abbiate scusate lo sto facendo col cellulare ecco si sta divertendo a rotolarsi nel prato è una rotolona e rotolone regina diamo non mi saltare addosso come fai di solito ecco questa abitudine la sta perdendo finalmente l'ha fatto prima con mia figlia ma gli ho detto subito no e se già comunque rallentata allora il cane ha un anno e qualche mese un anno e tre mesi all'incirca dopo vi darò la data di ascita giusta giusta intanto per far qualcosa in questo momento allora prima saltava a destra e a manca come un canguro adesso non lo fa più mi dispiace no allora hanno tagliato il prato gli hanno fatto le balle di fieno ecco qua la mia stellina la stellina la sto preparando per i miei viaggi a trekking essendo che le ho fermati per addestrare lei perché portarla senza guinzaglio poi magari per imparare a starmi vicino e quindi secondo me è molto importante e poi porterò anche le telecamere quindi dovrò fare in modo di portare tutto corri eccola qua mia salterina mio cangurellino stella vede queste nuove palle di fieno la prima volta che le vede queste balle di fieno scusate ho sbagliato anche a pronunciarlo poi questo andrà su youtube a casa perché adesso ho poco internet e qui cambierò l'operatore guardate 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 come si scatena è mattina quindi farà solo questa uscita qui perché dopo farà troppo caldo ok questo è tutto amici del canale ciao ragazzi alla prossima